Salone del Risparmio 2018, siamo con Andrea Pennacchia, direttore generale di IW Bank Private Investments. Dottor Pennacchia, qui al Salone del Risparmio si è parlato ancora, come si fa da molti mesi tra gli addetti ai lavori, di MIFID 2. Ecco, a distanza di qualche mese dall'entrata in vigore della MIFID 2 possiamo dire quali sono le sfide che ancora sono aperte per il mondo delle reti e dei consulenti finanziari. Allora intanto buongiorno, MIFID 2 sicuramente è la grande innovazione del 2018, parla di trasparenza, parla di centralità del cliente, di fatto mette al centro la consulenza. Io credo che per le reti di consulenti finanziari rappresenti più un percorso che continua, nel senso che nel DNA delle reti è sempre stata presente la relazione con i clienti, la profondità dei rapporti, la relazione fiduciaria. Questo fa sì che in realtà le reti siano già pronte sostanzialmente ai concetti richiesti da MIFID 2, ma non per questo non ci sono degli stimoli. MIFID 2 sta stimolando tutti noi a intanto rendere più visibile il valore creato al cliente, sicuramente a continuare a investire in tema di formazione, di qualità dei nostri consulenti finanziari, ma anche ad esempio sulla piattaforma aperta per dare opzioni più possibili diversificate di investimento. L'ultimo elemento io credo importante è quello dell'efficienza operativa. L'efficienza operativa è indispensabile e quindi la digitalizzazione dei processi è molto importante, ma non per sminuire la relazione tra consulente e risparmiatore, ma semplicemente per liberare tempo e dare maggiore qualità a questa relazione. Prima lei accennava alla formazione, che è molto importante per chi opera come distributore di prodotti finanziari e come consulente, però c'è anche un tema della formazione dei risparmiatori che si confrontano con uno scenario sempre più complesso sui mercati. Certo, l'educazione finanziaria, tra l'altro siamo al Salone dei Risparmi, l'educazione finanziaria è stato sempre uno dei cavalli di battaglia del Salone dei Risparmi. È chiaro che anche la volatilità di febbraio ci ha mostrato come fare scelte sul mercato non sia mai semplice, la lettura del mercato non è mai semplice. Dall'altra parte ci sono esigenze da parte dei risparmiatori di un sempre maggiore bilanciamento nel lungo termine di quelle che sono le esigenze di consumo da bilanciare con le capacità di flusso reddituale. Diciamo che in questo contesto l'educazione finanziaria è fondamentale per il risparmiatore, ma in realtà il consulente finanziario ha un importante ruolo e un'importante responsabilità da questo punto di vista. Per questo motivo noi continuiamo a investire sulla formazione, lo facciamo in modo convinto sia con forme di incontro in aula, anche con dei corsi. Abbiamo organizzato per quest'anno per i migliori nostri consulenti un corso all'Insead sulla finanza comportamentale che sarà molto interessante, però diciamo che la formazione rappresenta per il consulente e quindi poi di riflesso anche per i suoi clienti un elemento fondamentale. Grazie dottor Pennacchia. Grazie, grazie a lei.